Dal 27 dicembre fino al 30 è in corso la seconda edizione del Castellabate Film Festival. Quest'anno, a differenza della prima edizione, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, la manifestazione si sta svolgendo online e in streaming e in tv su Cilento Channel, canale 636 del Digitale Terrestre. Il progetto è stato realizzato dall'assessore all'istruzione del comune di Castellabate, Risabetta Martuscelli, in collaborazione con la dirigente scolastica Gina Moriello dell'Istituto Comprensivo Castellabate e il regista Gianni Petrizzo della Film Studio. La seconda edizione ha dato vita a delle novità proponendo nuove sezioni cinematografiche, film a tema libero, lungometraggi, cortometraggi, film ad animazione, documentari, videoclip e trailer, dando spazio ad autori nazionali ed internazionali. Anche quest'anno un'attenzione particolare è stata rivolta alla sezione dedicata alle scuole di Castellabate e ai loro cortometraggi basati su tematiche diverse. I giochi, i genitori, le emozioni. Infatti ieri si è svolta online la giornata di proiezione dei corti. Grande successo di pubblico e partecipazione per l'evento che è andato in onda nella serata di ieri su Cilento Channel. Ospite in studio il regista Gianni Petrizzo, mentre l'assessore del comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli, il responsabile dell'ufficio turismo Enrico Nicoletta e la dirigente Gina Moriello sono intervenuti in videoconferenza. Durante la proiezione dei corti sono intervenute le docenti Restuccia Antonietta del plesso di Castellabate, che ha curato la realizzazione del cortometraggio dal titolo Il tramonto più bello. Martuscelli Maria Assunta del plesso Santa Maria Piano Terra per il cortometraggio Azita. Margarucci Angelina, plesso Oiastro Marina, con il cortometraggio dal titolo Il filo. L'insegnante Russo Alessandra del plesso Alano, con il cortometraggio dal titolo Il gioco è una cosa seria. Orrico Raffaella, del plesso San Marco di Castellabate, con il cortometraggio dal titolo Il tesoro nel baule. E poi Di Mauro Gaetana, del plesso Santa Maria di Castellabate, primo piano, con il cortometraggio dal titolo Giochi diversi. Per la sezione scuola primaria, in collegamento invece, Rosa di Bartolomeo e Clotilde Meola, del plesso di Lago, con il cortometraggio dal titolo I genitori. E Stefania Sarluca, del plesso di Santa Maria di Castellabate, con il cortometraggio dal titolo Cosa vi piace di meno o di più dei vostri genitori. Entusiasta l'assessore Martuscelli, che ha commentato, gli alunni dell'Istituto Comprensivo sono i veri protagonisti, infatti sono loro stessi a scrivere le storie e a interpretare i personaggi, passando ad essere autori ad attori. Questo percorso rappresenta uno strumento di crescita e creatività per i ragazzi, oltre una vetrina importante per il territorio cilentano. Sono i giovani cittadini, il futuro del paese, a impegnarsi per valorizzare le bellezze di Castellabate. Il programma del festival ha previsto la proiezione online a partire dal 27 dicembre di sei lungometraggi, sette documentari, nove film d'animazione, 24 cortometraggi, tre videoclip e tre trailer, selezionati in finale dopo l'iscrizione di circa 250 film pervenuti alla segreteria del festival. Quest'oggi, 30 dicembre, in diretta streaming sul canale Cilento Channel, 636 del Digitale Terrestre, e sulle pagine social, nonché sul sito www.castellabatefilmfestival.com, si svolgeranno le premiazioni per assegnare i trofei nelle categorie in concorso. È possibile dunque seguire la manifestazione online sul sito del festival o su smarttv www.cilentochannel.com.